Ci siamo, poco parte Carbonara Split, la prima puntata come ben sapete parlerà di viralità, volevo iniziarla da qui, da un ponte, Ponte Matteotti, un ponte a me carissimo, quello sopra la stazione centrale per intenderci, quello dei viaggi, dei percorsi, degli incontri anche casuali, della condivisione, insomma arriviamo presto, lo facciamo con tanti ospiti, alcuni divertenti, altri molto meno, no sto scherzando, tutti simpatici e cordiali, compresi quelli che non si sono prestati, comunque presto arriviamo, Ponte Matteotti, quel di Bologna, ci siamo quasi.